Buon Pia Social Day a tutti. Sergio Talamo, eccolo qua, lo conoscete tutti, insomma è uno dei protagonisti del Pia Social Day da quando è nato, quindi da sei anni perché siamo alla sesta edizione, direttore comunicazione istituzionale in relazioni con le PA del Formez PA, ma credo probabilmente la persona che ne sa di più anche sulla riforma della legge 150 e quindi su un tema molto importante che è molto collegato anche a quello che abbiamo sentito prima, sia da Costanza che da Luca Zanelli, al riconoscimento delle professionalità e all'esigenza di una nuova organizzazione del lavoro per le pubbliche amministrazioni di fronte a tutte queste opportunità di cui parliamo oggi. Prego. Grazie, grazie Francesco. Se potete far partire le mie 40 slide. Quelle sempre previste, sempre previste. No, solo qui, solo questo guarda, io lo faccio sempre perché con Francesco è sempre aperto questo sipario, ma in realtà poi il vero sipario è questo collegamento da 20 città, io ripeto sempre, non so quale istituzione può permettersi tale coralità e tale condivisione della passione e delle competenze, credo nessuna ed è per questo che Pia Social io lo considero un patrimonio delle istituzioni, un pezzo delle istituzioni pur essendo un'associazione privata. Poi è un'associazione che nel suo Pia Social Day parte dall'idea della riforma, noi non ci fermiamo mai su questo versante perché la prima cosa che ci sta a cuore è lo stato giuridico, quindi la condizione professionale di chi lavora, di chi lavora su questo campo. Perché se noi parliamo di competenze, se noi parliamo di qualità delle nuove tecnologie, dobbiamo parlare di chi le sa gestire. Basta parlare tre minuti nel Pia Social Day e si sente di due milioni di visualizzazioni su Instagram in Emilia Romagna. Questo vuol dire evidentemente che siamo di fronte a numeri che anche in questo caso nessuna forma di comunicazione tradizionale, io vengo dalla carta stampata, ma quale giornale può pensare mai a due milioni di lettori. Siamo di fronte a numeri che danno da soli il senso della svolta epocale che stiamo vivendo. La legge 150 del 2000 ha quasi un quarto di secolo, nel 2000 il tempo non andava così veloce, 25 anni prima eravamo nel 1975, c'erano i giornali, c'era la televisione, nel 2000 siamo ancora lì, il web è ancora agli albori. In questi 23 anni sono successe tante cose che hanno cambiato completamente, non soltanto i feri del mestiere, ma addirittura proprio lo stesso concetto di comunicazione. La legge 152.000 diceva che la comunicazione pubblica serve a illustrare le leggi ai cittadini. Io penso che solo questa frase indichi la sfasatura temporale, che oggi penserebbe mai, non certo Francesco, non certo Alessia, non certo nessuno di voi, che la comunicazione serve a fare la maestrina di cittadini e alunni. E oggi abbiamo un'esigenza fondamentale di comunicare l'amministrazione, ad esempio lo stesso PNRR è una parola che da sola è la negazione della comunicazione, perché indica una percezione, un acronimo che dà un'idea sostanzialmente asettica, fredda e persino formale di qualcosa che invece è la più grande scommessa che persino 80 anni fa sappemmo indicare meglio. Piano Marshall indicava la voglia di un paese di rinascere PNRR, dovrebbe essere la stessa cosa ma è percepita in modo diverso, tanto è vero che siamo ancora oggi a impigliarci nel rapporto con il controllo concomitante. Il problema è che il PNRR è un'impresa comune, lo doveva dire, lo dovrebbe dire la comunicazione, invece la nostra amministrazione viene, questo lo sottolinea spesso il ministro Paolo Zangrillo, dal blocco del turnover, dal blocco della formazione, dal blocco della comunicazione, quindi si è creata una pubblica amministrazione senza cittadini, una pubblica amministrazione che fa leggi per i cittadini, ma in realtà non li incontra, non li considera e infatti è ricambiata da un discredito che nella maggior parte dei casi è anche immeritato. Ancora il ministro Zangrillo ha detto di recente che noi dobbiamo lavorare, cioè che il senso del nostro lavoro è valutato dal giudizio che i cittadini danno dei servizi pubblici. Mi ha ricordato i miei studi classici, Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose, il metron. Bene, il cittadino col suo giudizio è misura del lavoro pubblico. Ecco, se noi teniamo conto di questo, dobbiamo anche porci la domanda successiva. Qual è la pubblica amministrazione che deve tenere conto di questo giudizio? La pubblica amministrazione attuale che è l'amministrazione dei no, degli alibi, della fuga dalla firma, l'amministrazione che sta morendo di retorica della privacy, come se noi ogni volta che accendiamo un telefonino sostanzialmente facciamo uno scambio da persone adulte, do i miei dati in cambio di un servizio. Invece noi siamo dietro una sorta di bolla di catastrofismo tecnologico, per cui in realtà siamo ossessionati da un lato dalla privacy, dall'altro dalla necessità di prevenire abusi che molto spesso sono soltanto immaginari e che portano poi a un'aribi costante di un'amministrazione purtroppo ipotecata e spesso bloccata dagli uffici legali e dagli uffici tecnici, che sono professionalità importantissime, però se noi dobbiamo arrivare al cittadino, se noi sappiamo di vivere in un mondo nuovo, nella civiltà digitale, dobbiamo ragionare sulle professionalità di chi deve trasformare questa civiltà in qualcosa di utilizzabile, di chi deve rendere possibile a tutti capire che un certificato si può ottenere ad esempio in cinque minuti attraverso l'anagrafe digitale e senza costi, di chi comincia a utilizzare l'intelligenza artificiale in termini diversi da quelli che vengono costantemente propagandati, perché l'intelligenza artificiale se gestita da professionisti diventa empatica ed etica, diventa qualcosa che aiuta i software stessi che producono testi diciamo che vengono dalle macchine possono controllare che questi testi, qual è la loro origine, lo fanno già molte scuole, non è che il software è praticamente un nemico, il software è un alleato di qualsiasi nostra innovazione, di qualsiasi nostra capacità di migliorare la qualità dei servizi e della vita. Ecco perché noi nella legge 151, come la chiamiamo con un hashtag giornalistico da alcuni anni, che è sui tavoli della politica e noi non ci fermiamo mai di stalkerare la politica per portare un'attenzione maggiore a questa necessaria riforma, parla non soltanto di una nuova professionalità unitaria del giornalista e del comunicatore digitale. Adesso Pia Social rilascia anche l'attestato di informatore e comunicatore digitale, io lo ricordo per tutti i colleghi che ancora non hanno fatto domanda perché c'è una commissione che valuta e rilascia questi attestati ai sensi della legge 4 del 2013, l'ordine dei giornalisti ha ormai aperto le porte ai comunicatori e giornalisti digitali per l'entrata nell'ordine ma questa legge prevede anche che noi oltre a gestire in una communication room insieme queste funzioni siamo anche aperti alla gestione della trasparenza accountability, un tema di cui abbiamo parlato varie volte anche con Alessia e con le regioni perché è un tema molto sentito dalle regioni. Ecco Sergio ti fermo un attimo, vai con un flash su oggi, oggi a che punto siamo? Siamo al punto che la comunicazione, che la nostra legge è praticamente già realizzata anche dal punto di vista della sua stessura formale. Abbiamo un testo da proporre alla politica insieme con varie alleanze, vari rapporti istituzionali che abbiamo sviluppato in questi mesi, speriamo di arrivare presto ad una presentazione formale ufficiale, speriamo di arrivare ad una considerazione di un chi fa cosa più chiara. Attualmente noi non possiamo avere un comunicatore, chiudo con questo perché penso che sia la questione più sentita da tutti i colleghi, il comunicatore digitale è una professionista disposto a risolvere problemi, ma non è il mister Wolf della pubblica amministrazione per usare l'immagine di un famoso film, è un professionista, quindi va considerato come tale attraverso un suo inquadramento, una sua figura contrattuale, dei suoi precisi riferimenti dal punto di vista della professionalità, della formazione, dello smart working, del monitoraggio e di tutto ciò che riguarda la sua condizione professionale nella vita quotidiana.